I militari del Comando Provinciale di Cosenza, nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Cosenza, hanno posto agli arresti domiciliari un imprenditore cosentino indagato per il delitto di bancarotta fraudorenta. Le attività investigative condotte dalle fiamme gialle del nucleo di polizia economico-finanziaria di Cosenza sono state incentrate su una società operante nel settore del brocheraggio con diverse filiali dislocate sull'intero territorio nazionale, dichiarata fallita nell'anno 2015, il cui amministratore ha distratto beni e denari per un valore pari a circa 1 milione e 800 mila euro, grazie ad abili artifici contabili. Le indagini svolte dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Cosenza hanno consentito alla Procura della Repubblica di richiedere ed ottenere il provvedimento di arresto notificato in data odierna all'indagato, già noto tra l'altro per precedenti truffe perpetrate sull'intero territorio nazionale. Prosegue pertanto, elabora così il comunicato della Procura della Repubblica, l'attività della Procura della Repubblica di Cosenza e della Guardia di Finanza al contrasto degli illeciti societari e fallimentari onde garantire il corretto funzionamento del mercato, la libera concorrenza e la tutela degli operatori economici che operano nel rispetto della legge.